ciao oggi sono riuscito a trovare un'altra pokeball di colore nero appena l'ho vista l'ho acquistata e adesso l'apro dove ci sono tre bustine due adesivi e basta e in più la pokeball sono aperta pure male è esplosa la pokeball aspetta aspetta potrebbe essere qualcosa di buono che si vuole già aprire eccola qui la pokeball sembra buona a parte qualche piccolo segno però è accettabile ma sempre matencina effetto è alluminio duretto e questo a bordo plastificato plastica dura qua ci sono i due adesivi allora due e li metto da parte gli adesivi sono solo la sagoma che si stacca non è che tutto lo levate e all'interno ci sono queste tre bustine lucentezza siderale astri lucenti e colpo fusione provo ad aprirle inizio con lucentezza siderale sperando che in una delle tre c'è qualcosa di buono non dico in tutto e tre ma almeno in una delle tre ecco qui il primo codice è il primo che riesce a prenderlo e inserirlo nel sito o nell'app non è la prima non è la seconda non è la terza la quarta il trick è da quattro energia blu scura come prima carta c'è la pilla goduk fase 1 che si è voluto da psiduk occhiali super efficaci spero di non averla ma può darsi che ce l'ho speduk base fase 1 mai trovo in una bustina in base fase 1 e fase 2 pogepi magnemite ralz con il vulcano sembra che sta a napoli o in sicilia snaesel di usui oh questa mi manca tempio di sinno questa no mi manca l'altra versione che fa l'effetto bianco semplice dietro quando ne manca un c'è bravia braviari di usui non ce l'ho questo fasi 1 di ruffle bella non luccica niente strano e strano 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 come bustina vado con la seconda astri lucenti chissà cosa trovo ho intravisto lei ok ecco qui il codice perchè l'ho presso al contrario 1 2 3 e 4 quando ne ho visto energia acqua energia mare sembra offrezzante che ci sono le bollicine pachiris 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 sorridente sotto all'albero e all'ombra brandifuoco brandifuoco invece di mettere brandifuoco brandifuoco ultraval che assomiglia a questa qui messa un po' di squincio che si apre basta che prenda una lucetta che si accende e si assomigliano poi c'è quello che abbiamo visto poco fa trapping cast form casper assomiglia a casper ma adesso mi è venuta toro toro che serve così dovrebbe essere toro non toro toro ho detto io sromish nooo neanche a farla apposta pip flup se eri intravista c'è la carta sembrava bella se eri intravista c'è neanche un'altra dietro dietro guardate che bella bellissima zekrom ma tu non me l'aspettavo pensavo a una carta un po' più scadente non che che tutte sono migliori o scadenti pensavo più più di basse qualità rispetto a questa bella 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 dal vivo se vede meglio lacerazione shock feroce questo pokemon infligge anche 60 danni a se stesso il pokemon attivo del tuo avversario viene paralizzato hai capito sesso si danneggia dietro probabilmente quasi niente e mi manca però aurus fase 2 che si evolve da fraxure mi sa un lievissimo difetto che è leggermente più spesso qui che qui il bordo è leggermente a sinistra però è bella bella bellissima più che altro bello il tipo di effetto se la facevano leggermente più piccola prendeva di più le ali le zampe la coda bella 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 dal vivo è un'altra cosa prendo subito la sleeve slide vedo qui la bustina la busta con le bustine vuote delle slide a posto chissà una terza bustina probabilmente non dico che non ci sarà niente ma almeno qualcosina troverò col pulsione a parte quasi tutti i doppioni comprese l'energia ho aperto un po' di forza ecco qui il codice il trick mi sa 4 1 2 3 4 3 energia viola occhio si mi mi sa c'è fase 1 che si volve da qui in sa c'è mi sa una carta mancante ho assomiglia agli altri e sembra di averla ballerina questa no non ce l'ho è buona ho avluca questa sembra di averla ho assomiglia un'altra e sembra di averla glicker sembra un pepistrello slugma schetti questa è una carta mancante che non ho mai vista vista proprio una volta la link questa sicuramente sarà a doppione che anche lei la tartaroghina il tartaroghino che carta è toxtricity faccio una che si vuole con la toxel che c'è la tosse no niente di che sembra niente di che niente di che però non ce l'ho latios colpo fusione bella comunque di ste carte se ne trovano poche o a me mi capitano di trovarne poche nelle bustine con questo giallo qui e con questo effetto ne trovo poche queste erano e sono le tre bustine quella più bella è stata quella del centrale in cui ho trovato lei o lui più la pokeball e in più i tuoi adesivi vi ringrazio ci vediamo al prossimo video e al prossimo acquisto che farò di non so cosa ciao